Le foto di Giada Giovanelli, fidanzata di Francesco, dividono i seguaci del reality show Li abbiamo conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, il noto reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Giada Giovanelli e Francesco Franco saranno la prossima coppia ad abbandonare l'Isola delle Tentazioni nel corso del quarto appuntamento serale televisivo la cui messa in onda è prevista per domani, lunedì 30 l'1. Giada e Francesco hanno deciso di partecipare nel programma per chiarire alcuni aspetti della loro vita di coppia. Entrambi sono molto innamorati l'uno dell'altro ma con un grande problema, la gelosia del ragazzo e il desiderio di libertà di Giada. Riusciranno a tornare a casa insieme risanando le mancanze e i vari problemi relazionali? Al momento sappiamo che il confronto tra la coppia sarà molto accesso e vedrà entrambi scontrarsi dinanzi al presentatore. In queste ultime ore a far discutere sono i presunti cambiamenti estetici della Giovanelli. Secondo i seguaci del reality show la 27enne avrebbe ritoccato alcune parti del corpo. I presunti ritocchi di Giada di Temptation Island. Giada Giovanelli è, senza alcun dubbio, una bellissima ragazza. La fidanzata di Francesco, però, ha fatto ricorso ad alcuni interventi di chirurgia estetica nel corso degli ultimi anni. Di recente sono emersi alcune fotografie che la ritraggono prima dei ritocchini chirurgici effettuati. Nel corso della terza puntata di Temptation Island la Giovanelli si è autocelebrata nel corso del fallò. Rivolgendosi al conduttore del reality non ha esitato ad esprimere il suo pensiero sulle sue qualità estetiche, non penso di essere una brutta ragazza. A quanto pare, però, la bellezza di Giada sembrerebbe non essere totalmente farina del suo sacco. Dalle immagini circolate in queste ultime ore, pubblicati nella fotogallery di quest'articolo, sembrano evidenti i ritocchini al seno e dalle labbra. Giada e Francesco, il gesto mancato. Giada e Francesco usciranno insieme? E questo il grande dubbio di un gran numero di telespettatori. Come sarà realmente finita tra la coppia lo scopriremo durante la prossima puntata che sarà trasmessa, su Canale 5, domani sera. Attualmente si vocifera che i due si siano lasciati. L'indizio sembrerebbe provenire dai loro rispettivi profili Instagram, Francesco e Giada non si seguono sul social. In realtà il ragazzo si è iscritto da poco su Instagram ma la sua scelta di non seguire la fidanzata potrebbe preannunciare una possibile rottura o, semplicemente, vorrebbe significare il rispetto del regolamento il quale preannuncia tutti i concorrenti di non rilevare alcuna anticipazione? Lo scopriremo a breve. .